Ci troviamo a Caltanissetta in via Vittime 9 luglio, con noi Filippo Cosentino. Da quando c'è in questa strada l'isola ecologica? Cosa accade? Accadono numerosi disservizi, dal blocco dell'ingresso in un cortile privato alle lunghe file che ostruiscono la strada in modo pericoloso perché la strada da doppio senso di circolazione diventa un solo senso di circolazione quindi sono le macchine in colonna, i residenti che devono uscire non possono uscire perché ci sono le macchine in colonna e si crea un ingorgo. Particolarmente verso le ore di punta, quindi verso mezzogiorno, l'una che c'è il rientro da chi rientra e torna all'ufficio, chi deve andare a prendere i bambini a scuola. Abbiamo più volte segnalato questo disservizio ma l'amministrazione in modo cieco e sordo se ne ha ampiamente, non ha ascoltato le nostre lamentele, sia anche loro come il comitato di quartiere con cui ho avuto degli incontri per chiarire i disservizi quali erano però il comitato di quartiere si maschera soltanto dietro una raccolta firme per spostarla in o non meglio identificata via Vittoria 9 luglio ma non sicuramente sotto un edificio dove abitano 12 condomini con numerosi lamentelli da parte di tutti i condomini infatti sto parlando a nome di tutto il condominio ma non che anche di altre persone vicine al sito dove viene fatta l'isola ecologica del giovedì. Lei ha postato su Facebook diverse foto per far vedere quello che accade che noi adesso vi mostriamo tra l'altro dice la strada è stretta, per i mezzi pesanti c'è un ingorgo di traffico alluginante Ma non solo l'ingorgo di traffico, anche a livello di rumori molesti di inquinamento perché c'è il mezzo della Dasti che viene lasciato qui alle 7 di mattina orario in cui comincia la raccolta differenziata e rimane col motore acceso non si sa perché, sino alle 2 quando finisce l'orario di raccolta della differenziata. Avete trovato spesso anche garage senza poter entrare e uscire? Sì, una volta dopo che abbiamo mostrato una strada mentale gli operai della Dasti devo dire in modo molto consapevole hanno cercato di organizzare e regolamentare il traffico e hanno cercato di spostare la fila, la lunga coda che si creava dal lato opposto alla salita di via Vittima di 9 luglio però come potete inquadrare voi hanno istruito tutti i garage quindi avevamo tutti gli ingressi limitati mentre da questa parte a sinistra, a valle, viene bloccato l'ingresso del nostro cortile condominiale. Da quanto tempo si verifica questa situazione? Fin dal primo giorno che ha cominciato l'isola ecologica immediatamente abbiamo segnalato i disservizi innanzitutto all'amministrazione comunale tramite contatti informali con dei consiglieri comunali che hanno rivolto il tutto all'assessore Franciamore e all'architetto marchese dirigente dell'ufficio preposto e anche al comitato di quartiere. Prima dove era l'isola ecologica? Era in via Trigona della Floresta strada molto più ampia che consentiva ambi margini di manovra per tutti i mezzi pesanti. Quindi in sostanza i residenti di questa zona hanno difficoltà l'amministrazione comunale non dà risposte quindi non sapete nemmeno perché è stata spostata qui o lo sapete? No, assolutamente senza motivo. L'amministrazione dovrebbe comunque interloquire con i cittadini perché i cittadini quando fanno delle domande hanno il diritto di avere delle risposte speriamo arrivino dopo questo servizio.